Musica Ciao a tutti sono Isaac e siamo tornati su Dead Space 3 Eeeh Devo darmi una brutta notizia No no non è vero perché cos'è quella roba che fluttua E' una meba No comunque C'ho una Non so Il problema è che appunto Dallo scorso episodio mi sono accorto che non l'ho salvato Infatti vedo non ci sono salvataggi qui in giro E quindi ho dovuto rifare una grandissima parte Lunghissima tra l'altro perché non avevo saltato un solo salvataggio E ne avevo saltati tipo 3 E non so come sia possibile che non l'ho salvato per 3 volte E quindi appunto ho dovuto rifare un sacco di cose E ho preso delle cose in più Adesso sono senza munizioni per sta arma però Ho preso un sacco di cose in più Perché ho usato un nodo energetico per aprire una porta Poi ho potenziato un attimo il rig Un po' tutte le armi con i nodi energetici che avevo Perché ho trovato una stampante nel bel mezzo del nulla E vabbè adesso siamo pronti per partire Continuare vediamo cosa c'è oltre questa cosa qui Attenzione non c'è Ho fatto alcune modifiche alle impostazioni per lo Grazie signora Ho fatto alcune modifiche alle impostazioni dello Steam Controller Praticamente ora credo sia leggermente più Non lo so perché è strano come funziona l'emulazione del joystick Con la versione nuova Quella che ne ho aggiunto qualche giorno fa Però ho aggiunto una funzione che praticamente Se vado nel bordo del touchpad destro Continuo a girare all'infinito In questo modo posso girarmi più velocemente ancora Praticamente è un miscuglio tra un mouse e un gioco Cosa sta succedendo? Oh oh Salve Ok qui è dove c'erano quei due tizi? Oh grazie Ma qui non è dove c'erano i due tizi? Dove sono finiti adesso? Porca boia No non facciamo Pla 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 Come su Dead Space 1 Peccato vabbè Vediamo cosa c'è di qua Spero siano andati qui dopo E si era bloccato Però prima volta ci incontriamo immagino Che brutta fine che stai facendo Perché diventa scemo solo lui e non Isaac? Io non capisco perché Isaac non sta impazzendo Sta impazzendo soltanto lui Cioè se non sbaglio entrambi hanno subito il trattamento delle Hawaii E quindi non capisco per quale motivo Soltanto lui impazzendo Signori Bastava fare tre metri per avere un salvataggio Che genio Allora vediamo cosa dobbiamo fare Via i tavolini qua giocavano a briscola loro Capitolo 9 signori Mancano tre capitoli alla fine Se non sbaglio Ho visto che sono dodici capitoli Non so se anche come su Dead Space 1 Ehi la Non so se come su Dead Space 1 Le iniziali dei capitoli Formino una frase Alla fine Devo controllare Oh cavolo Eh mi hai distratto Bastarda Ok no Appunto Stavo ascoltando Ma diamine Però Ho notato una cosa Che non dovevo notare Il prossimo che si fa vedere Subirà una scalica elettrica Di 255 watt Ok A parte te Dove sono finiti? Oh cavolo Eccolo qui 5 watt Che cavolo Non mercoledì Dove Sono peggio dei tizi Che giocano al nascondino Eccoti qua Zzzzzzz Non è morto Voi chiederete Perché sto usando il javelin? Perché è tipo L'arma più inutilizzata Che ho E Ricarica 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 Ed è anche Strascarsa Lo so Zzzzz E perché ho notato A punto che avevo Ah boh Alla Quanta gente c'è qua? Ole Avevo notato appunto E vuoi morire? Ma non ce n'erano in piedi qua? Ah che brutta fine hai fatto Il gigo Oh mercoledì I gigo Ti fanno male? No appunto stavo dicendo E dai Mori Ho giocato A baseball Con un necromorfo Signori Ok Perfetto Allora Di qua non c'è niente Di qua non c'è Still Mi sa che devo aumentare La sensibilità Perché Boh c'è un feeling strano Veramente Cioè Sembra che parte lento Però poi si velocizza Metà strada La sensibilità Non so che cavolo sia Allora Com'è che si prende? Vuoti di memoria Come è che si prende? Oh mio dio Proprioso Oh no Yeah Double kiki Non di colpire sempre La testina Così Ne ammazziamo due Con un colpo A parte da Ma quanti sono? Ole Tira di merda Ok perfetto Quanti colpi Abbiamo già finiti Ok Continuiamo ad usare Javelin C'avevamo tipo 35 colpi del javelin E' lì Inutilizzato Mi sa che userò Lo slot In cui ho il javelin Per Per provare un po' Tutte le armi Perché Devo ancora provarne Un bel po' di armi Soprattutto quelle nuove Cioè Nessuna Oh cavolo Spaccato la gamba Con Con No Ricarica Pizzum 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 Quanta roba Ancora Caleb Signore c'è ancora Caleb Allora aspetta Prima di tutto Devo fare una cosa Nel negozio Perché devo vendere Un bel po' di roba Cioè tipo Ok grazie Tutta vintage Vorrei provarla No c'è un sacco di roba da vendere Quindi iniziamo subito A lavorare Ok allora signori Indovinate un po' Qual è l'arma Che ho preso Per Per il Come si chiama Quell'arma L'ho già dimenticata Ho preso La Questa Che non c'era Su Dead Space 1 Mi pare Sare per Così E poi Così Poi così E poi Oh mio OP OP E OP Che sta roba Ok signori Ho le granate Cos'è quello Slender Slender Sei tornato Sei tornato E se n'è andato E' tornato Slender Signori Col camice Dai vieni fuori Anzi no Ci sono Ci sono Ci sono Pim 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 Venga a me Slender Sapevo che avrebbe fatto Una E non troppo più Vermetti di merda Oh merda Eccolo lì Eccolo lì Che schifo è Ah giusto Potevo anche fare così No Non posso più Buttare le cose Beh almeno possiamo Prendere quello Spero Allora Possiamo riprenderlo Prima devo fare così E poi così Signori Quest'arma è OP Perché non l'ho presa Fino all'inizio Dell'altro E' quel Javelin Allora Qui non c'è niente Ovviamente Andiamo Ascensore Questo qua possiamo usarlo Se non sbaglio C'è un E' un esplosivo Praticamente Buona Venga qua Esplosivo Dove è finito? Dove è finito? E' sparito Ma che Dove ti Vabbè ok Amen Uh signori Il sole si è allontanato Sbaglio? Si è allontanato Rispetto a due parti fa Ho un altro Un mercoledì Dove immaginarmelo Un mercoledì Nonno Nonno Oh cavolo Mi ero impappinato Non sapevo cosa fare Ma almeno ho fatto Tutto il nonno Dai almeno lui Ok Ha fatto la La coppa del nonno Non ho mai capito Perché si chiama così Quel gelato Però vabbè Possiamo fare qualcosa? Nope Andiamo avanti Ma sono sicuro Che tutte queste stanze Servano a qualcosa Cioè Ah giusto Mi sono dimenticato L'inagino C'è tipo Ok Ok Perfetto Andiamo Un altro ascensore Scensore Ah no Non capisco tua lingua Non capiscere tua lingua Non sentire Cioè Ci essere Un attimo di riverbero Che non si sente niente No Non possiamo prenderle Quelle Però possiamo usarle A nostro vantaggio Quindi Vediamo se troviamo Qualcuno da far fuori No Quello l'avevamo già trovato Sì sì Mi pareva strano Un attimo Allora Vediamo Nope Ok Questo Abbiamo finito anche I colpi Ahia Mi ha finito anche i colpi Esplodono quelli Che Sì Muori Muori Ok Ok Allora Perfetto Mi ricorda tanto Aperture Sto posto Complimenti Ma lì eravamo Là sotto Fino ad un attimo fa Sì eravamo lì Tipo La bellezza signore Del map making Di Dead Space Sì Sì Ancora il plat Plat Facciamo Yeah Come i bambini Nel fango Plat 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 Eh Eh No No Ascom Ma Poi scende Oh Mercoledì Ma sta salendo l'ascensore No no Non farmi la bua Ti uccido con la tua stessa gamba Ovviamente stavo per morire Anch'io lo so Olè Perfetto Abbiamo ancora questa Oh Merkel di chi c'è qua Chi cavolo è Oh me Mori E mori E splat Ma appunto stavo per dire una cosa Se mi lasciassero parlare qua Così a caso Praticamente E questo dove minchia era Da dove minchia è spucato quello Non l'ho neanche visto Oh signore un salvataggio signore Possiamo fare tutto quanto Punto perfetto per concludere la parte Però prima volevo concludere un'altra cosa La tizia ha detto Effettivamente È l'unica cosa che ho capito Leggendo i sottotitoli Perché dall'audio fa schifo Ha detto È vero Effettivamente Noi sapevamo che era morta Perché avevamo visto il video fino alla fine Eppure siamo andati comunque Nell'ishimura A morire Praticamente Perché adesso Tutta sta cosa è successa Perché siamo andati Nell'ishimura Potevamo stare tranquilli in casa Però no Siamo andati a l'ishimura A cercare una tizia che era morta Perché mi sapeva Quindi Isaac Caro Perché sei andato a l'ishimura Ok Credo non mi risponderà Vabbè Speriamo ci risponda Entro la fine del gioco Quindi ci sentiamo alla prossima Ciao Alla prossima Era una brutta fine Signori vi presento L'hamburger Di Necromorbo E la sua fabbrica Ah Un'altra cosa Della stasi Oh Abbiamo visto Che non serve a niente La stasi Quindi Non ci ha Ok forse no Serve Serve Ok Ok perfetto Che cos'era Quell'urdo Che cos'era Della Come Ciao Grazie a tutti.